Tra tutti i paesi dell'Europa occidentale, l'Italia ha, tra gli altri, il primato di avere il sistema politico più costoso. Se questo può essere un motivo di vanto, tra tutti i primati negativi che abbiamo, nel senso di essere ultimi per crescita, nel senso di essere ultimi rispetto a quasi tutti i parametri economico-finanziali, finalmente registriamo un primato, un settore nel quale siamo primi. Siamo primi come costo della politica, nel senso che il costo che i politici riversano sui cittadini italiani è immensamente superiore al costo di quasi tutti gli altri paesi europei. Qualche cifra per capire di cosa stiamo parlando. La Camera dei Deputati italiana, quindi la sola Camera dei Deputati, costa 981 milioni di euro. Subito dopo viene il Bundestag, l'equivalente tedesco della nostra Camera dei Deputati, che ne costa quasi la metà. 517 milioni di euro. Poi viene la Casa dei Comuni, la gloriosa e mitica Casa dei Comuni inglesi, che costa 226 milioni di euro. E quindi viene il Congresso de los Diputados, l'equivalente spagnolo della nostra Camera dei Deputati, che costa solo 74 milioni di euro. Ora, capite che tra la Camera spagnola e la Camera dei Deputati italiani, c'è un rapporto di 1 a 12. Gli italiani hanno l'invidiabile, e un, diciamo così, difficilmente superabile, primato di costare 12 volte più degli spagnoli. O serve ricordare che negli ultimi 10 anni la Spagna è stata probabilmente la nazione europea è con una crescita più alta, e certamente è una delle nazioni europee con un livello di tassazione basso. Il motivo potete benissimo capirlo. C'è un Paese che è molto oculato nelle spese della politica, come dicevamo, spende 74 milioni di euro laddove noi ne spendiamo 981, quindi, come conseguenza, può permettersi di far pagare meno tasse ai propri cittadini. E facendo pagare meno tasse ai propri cittadini consente uno sviluppo maggiore al proprio Paese, giacché il livello di tassazione e il livello di sviluppo sono evidentemente collegati. I nostri politici, dunque, hanno questo primato che di gran lunga li rende primi in Europa di costare molto più di qualsiasi altro sistema politico europeo e di imporre, quindi, sul sistema Paese la zavorra del loro costo, oltre che della loro incompetenza e, fatemi anche dire, della loro straordinaria abilità a rubare. Bene, ora il punto è esattamente questo. Il punto è che questi politici sostengono che questo è il costo della democrazia. Quando, con quell'incredibile faccia tosta, si presentano nelle varie trasmissioni intervistati da giornalisti pupazzi, che non si permettono mai di fargli domande di una qualche consistenza, ma gli fanno soltanto le domande concordate, a cui questi politici rispondono in una scioltezza, quando, dunque, si presentano in questi salotti dove fanno sfoggio di sé, ci raccontano che questo è il costo della democrazia. Quindi, ci vendono addirittura l'idea che dobbiamo rassegnarci a pagare così tanto questo sistema politico, perché questo è il costo della democrazia e, diversamente, avremmo dei guai maggiori, facendo intuire probabilmente degli scenari apocalittici di, chi lo sa, avventure totalitarie o chissà cos'altro. Ora, è bene che noi subito ci mettiamo un punto. Abbiamo visto che in Italia spendiamo il doppio di quanto si spende in Germania, quasi 4 volte di quanto si spende in Inghilterra e 12 volte di quanto si spende in Spagna. Quindi, questo non è il costo della democrazia, giacché nessuno potrà contestare il fatto che gli altri paesi, dalla Germania alla Spagna all'Inghilterra, non siano democratici. Il fatto che loro spendano immensamente meno significa che noi paghiamo il costo dell'incapacità e della corruzione dei nostri politici. Questa non è una mia opinione, questo è un risultato concreto dei numeri, delle spese, dei costi di istituzioni paragonabili. Se noi spendiamo immensamente più che gli altri paesi europei, che sono altrettanto democratici, se non di più, evidentemente il problema non è il costo della democrazia, il problema è semplicemente che i nostri politici sono incompetenti, incapaci e corrotti, cioè rubano di più. Mi sembra evidente, mi sembra l'unica spiegazione. Ora, capite bene che tutti noi ci facciamo il sangue marcio su questa politica corrotta, su questi politici incompetenti e da almeno 20 anni, per non dire di più, non riusciamo a trovare il bandolo della matassia. Ora, mettiamoci in testa una cosa semplicissima ed è bene che ci togliamo dalla testa alcune idee che non si leggono, non staranno in cielo e in terra. Cioè, diciamoci subito che con il voto non si cambia nulla. Laddove il nostro voto in qualche maniera osta, ostacola i progetti dei politici, fanno di tutto per aggirarlo e neutralizzarlo. Abbiamo visto il referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti, è stato neutralizzato, è stato introdotto un rimborso delle spese elettorali e il risultato finale è che adesso gli stessi partiti prendono 10 volte in più di quanto prendevano quando noi abbiamo votato di non finanziare più la politica. Quindi, era un voto il nostro, quel referendum che ostacolava i progetti dei nostri politici, lo hanno tranquillamente disatteso, disinnescando le sue conseguenze. Lo stesso vale per il Ministero e i Ministeri che sono stati aboliti nei vari referendum che sono scomparsi con quel nome e solo riattarsi con un altro nome. Quindi, laddove i nostri voti ostacolano la politica, vengono tranquillamente aggirati e disattesi. Questa è una prima prova del fatto che il voto non può cambiare. Una classe politica che sostanzialmente tutte insieme è diventata autoreferenziale per cominciare e in sostanza tutti insieme lavorano per continuare a fare le stesse cose che stanno facendo. Le varie leggi elettorali, l'ultima, quella scandalosa di Calderoni, ha avuto anche lui finalmente, ha sentito il dovere di chiamarla una porcheria, ebbene l'ultima legge elettorale toglie anche la libertà di votare candidati. Sono i partiti, sono le segreterie dei partiti che scelgono i candidati. Quindi al cittadino resta la sola possibilità di votare lo schieramento sapendo già che, parliamoci chiaro, entrambi gli schieramenti sostengono e portano avanti le stesse politiche, a meno che non ci sia qualcuno che voglia e possa dimostrarmi che ci siano delle differenze sostanziali tra il centro-destra e il centro-sinistra. In sostanza, dunque, il cittadino ha la possibilità di scegliere tra due schieramenti che di fatto sono la stessa cosa, che di fatto sulle cose importanti sono d'accordo sempre, sui loro benefici sono ovviamente d'accordo sempre, sulla politica estera sono d'accordo sempre.